Questo oggi vi parlo di un santo dell'Ottocento, San Gabriele della Dolorata, al secolo Francesco Possenti. E' questo personaggio figlio di un magistrato di Spoleto e prima governatore di Assisi, un personaggio interessantissimo. Lui decide di, dopo essere vissuto come un giovane brillante della società, dell'alta società dell'epoca, lo vediamo anche nelle immagini, un giovane molto bello e molto stimato, decide di ritirarsi dal mondo. La sua vita familiare è molto particolare, molto tribolata con fratelli, con la mamma che muore in giovane età e diverse sofferenze che ha dovuto vivere e trova che il mondo e Cristo fossero per lui in contraddizione. Per cui decide di togliersi da quello che è la vita lussuosa a cui sarebbe destinato per trovare nella vita religiosa la vocazione che il Signore gli aveva messo nel cuore. E così fa si entra nell'ordine dei passionisti che era molto diffuso all'epoca nella regione laziale e cresce all'interno di questa congregazione, ma muore prima di poter ricevere gli ordini sacri, cioè di essere ordinato sacerdote a 24 anni perché si era ammalato di tifo. La sua vita è sin dall'inizio circondata da un alone di santità, anche quando era ancora nel mondo, viveva ancora nella sua famiglia, nel lusso, nel prestigio, c'era già il segno che era chiamato a essere testimone di qualcosa di più grande, cioè testimone del fatto che Cristo si impone nella nostra vita come un primato. Non possiamo essere indifferenti a questo primato, o girargli attorno, o trascurarlo senza venire meno a qualcosa di noi stessi. Se non prendiamo Cristo nella nostra vita ci perdiamo qualcosa e alla fine ci rendiamo conto che ci perdiamo il meglio. Don Bosco diceva questa cosa qua, che chi sbaglia la propria vocazione, chi non mette Cristo al centro, in sostanza, il rischio è che si perda dietro l'anima, che perda la cosa più grande che ha, che è proprio quella. E in questo periodo, che è un periodo di quaresima, forse il riflettere su questa cosa, che cosa sono chiamato a essere nella mia vita, per essere felice e per vivere in pieno la mia vita cristiana, forse diventa qualcosa di particolarmente significativo e importante su cui riflettere. Per spendere qualche minuto in più su questo. Buona giornata! Grazie a tutti!